guardalo! guardalo dove sta! oh figlio d'Achille, va a vedere dove sta Broglie 81! no io sono uscito raga, io non vi posso aiutare, io gioco da solo col fucile a pompa e dieci munizioni fin quando non mi compri il joystick, basta raga, non posso far più niente, mi dispiace non ce la faccio più io aspetta lo metto sul gruppo va questo fenomeno dove stava? spiegalo spiegalo l'ha messa sul gruppo guardalo 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 non ci credo fammelo vedere, dove lo devo vedere? sul gruppo virgolisti della natura della mutua? va va eppure mimetizzate come la montagna bravi guardalo è assurdo non ci credo io adesso esco con un fucile a pompa e dieci munizioni e basta come va va non posso non posso più regalare roba oggetti alla gente basta oppure domani sì domani esco mi vado a comprare qualche spruzzo elettronico che pulisce prendi l'aria spray se c'è la polvere dentro ma io c'è il compressore a casa no il compressore è troppo forte allora posso regolare fino io piano posso regolarlo come voglio io qua bohene interactive si chiama bohemia interactive sono alle 5 del mattino vado a dormire buonanotte bohemia guarda quando accendi vigora all'inizio te lo fa vedere buonanotte bohemia bohemia interactive sì no no b o h e mia sì mia sì interactive sì 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 Ah! 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.